Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Spacciava cocaina purissima e arrivava a guadagnare anche 100.000 euro al mese, è restato un fanese Panico fra gli inquilini in una palazzina a Pesaro, distrutta dalle fiamme in un incendio scoppiato poco prima delle 10 Suo figlio ha avuto un incidente, adesso deve pagare per sistemare le cose, arrestata dai carabinieri la banda del finto avvocato che colpiva al telefono Al carnevale di Fano tutto esaurito, domenica seconda sfilata con madrina la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia che si apre con la cronaca Andiamo a Pesaro dove una palazzina è andata a fuoco, panico tra gli inquilini Vediamo subito il servizio, le immagini di Lino Balestra Il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco ha evitato il peggio questa mattina a Pesaro, poco dopo le 10, nel quartiere Pantano dove si sono sviluppate delle fiamme da un garage sul retro di una palazzina a due piani Abbiamo informato un intervento per un incendio, all'inizio sembrava della caldaia perché nella stanza tigua c'era una caldaia Invece si è dimostrato, si è rilevato che era un incendio che presumibilmente dalle prime indagini sembra che sia partito da un cestino dell'immondizia Causa la classica cenere del cammino al momento, sempre sarebbe così Comunque adesso stiamo indagando meglio, ulteriormente per vedere proprio le cause specifiche Danni alle strutture cose? Da anni è andata completamente distrutta una macchina che era parcheggiata sotto la tettoia La tettoia e i due garage retrostanti Vani i tentativi del proprietario di estrarre l'auto dal gazebo I cannicci con i quali era delimitato hanno preso rapidamente fuoco avvolgendo tutto I danni sono stati circoscritti a quest'area dell'immobile Ma il denso ed acre fumo ha invaso i due piani dell'abitazione della famiglia Nicolini titolari di una ditta di serramenti ed arredamenti poco distante Attimi di paura tra i vicini e shock anche per l'unica componente della famiglia presente al momento dell'incendio che ha richiamato l'attenzione dei vicini i quali hanno allertato subito i soccorsi Nessuno sarebbe rimasto ferito ed intossicato Danni soltanto estesi alla struttura e la casa è stata dichiarata dai pompieri inagibile Adesso torniamo a Fano Pensate, riusciva ad arrivare a guadagnare fino a 100.000 euro al mese spacciando droga Nei guai è finito un artigiano fanese La soddisfazione è sicuramente di aver tolto sul mercato questo grosso quantitativo di cocaina e il plauso chiaramente è dovuto esclusivamente a tutta la squadra investigativa che questa volta come non mai ha visto insieme squadra mobile in collaborazione con i due commissariati di Fano e di Urbino Certo, la preoccupazione è pensare ai tanti clienti che usufruiscono di questa cosa ma contemporaneamente alla soddisfazione di aver tolto questa possibilità a questa clientela vasta di usufruire di questo prodotto nocivo La piazza di Fano ed il Forsempronese erano il bacino principale nel quale l'uomo smerciava le notevoli quantità di dosi di stupefacente di altissima qualità che fruttavano al 63enne artigiano anche 100.000 euro al mese L'uomo era già stato arrestato durante la scorsa operazione della mobile di Pesero denominata Pusher del 3 febbraio scorso dove all'interno dell'opificio dove egli era socio erano stati ritrovati 143 grammi di cocaina purissima ed ingenti somme di denaro provenienti dall'azione di spaccio La polizia però ha continuato a tenerlo d'occhio perché alcuni elementi non convincevano gli investigatori e di fatti gli hanno dato ragione L'uomo è risultato essere uno dei principali spacciatori di cocaina della zona che arrivava a tagliare anche un chilo di stupefacente al mese e nonostante avesse gli occhi della polizia addosso aveva preso alloggio in un albergo di calcinelli e continuava la sua attività di pusher Questi elementi uniti al rischio di fuga e di inquinamento delle prove hanno fatto scattare la perquisizione che ha portato al ritrovamento all'interno della sua stanza di un panetto di droga confezionato del peso di 600 grammi La nostra attività è stata proporzionale a questo giro di droga di traffico di sostanze stupefacenti quindi ci ha impegnato molto però non l'abbiamo mollato neanche dopo il primo arresto proprio perché avevamo capito da molte delle risultanze investigative che lui aveva ancora da muoversi molto nel territorio che è la prima fase quindi era solo interlocutori, era solo intermediari era molto cauto naturalmente quando incontrava i clienti ancora nelle fasi successive al primo arresto non è che si esponesse più di tanto però il nostro lavoro insomma sappiamo con chi abbiamo a che fare e lo abbiamo seguito fino a prenderlo con la droga proprio il grosso diciamo il quantitativo che ancora gli era rimasto da piazzare sul mercato che lo teneva comunque con sé presso la camera d'albergo al Calcinelli Al di là del risultato investigativo di grande spessore va rimarcato il fatto che avete tolto dalla circolazione un blockbuster notevole Sicuramente entrare nel merito del mercato della droga è fondamentale per controllarne tutto il territorio di competenza quindi è una delle voci principali di guadagno per la criminalità e quindi assolutamente il nostro interessamento per la droga per gli stupefacenti nel nostro territorio affano è fondamentale La notevole capacità operativa dell'uomo ci fa rilevare il capo della mobile Silio Bozzi si evince da alcuni dettagli come la particolare cura nel confezionare il panetto che poteva anche essere tranquillamente sotterrato non temendo né agenti atmosferici né umidità e gli strumenti adoperati e la qualità purissima dello stupefacente che lo inquadrano sicuramente tra gli elementi di spicco nell'ambito dello smercio di droga della zona I carabinieri invece hanno arrestato due campani che d'estate vendevano il cocco lungo le spiagge e d'inverno invece spacciavano soldi nei tabacchi e nei bar D'estate vendevano cocco fresco sulle spiagge del litorale e d'inverno compravano genere alimentari sigarette e ricariche telefoniche e pagavano con banconote false tagli da 20 e 100 euro per la maggior parte Due campani tra i 30 e i 35 anni residenti in loco sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Marotta dopo che alcuni esercenti truffati li hanno riconosciuti dalle foto segnaletiche come coloro che gli avevano rifilato le banconote tarocche Sulle tracce dei due i carabinieri sono stati indirizzati da una tabaccaia che dopo aver rifiutato la banconota fasulla in pagamento ha seguito uno dei due giovani e notato che confabulava poco lontano di lì con un noto venditore di cocco estivo A quel punto i carabinieri dopo accurate indagini e scandagliato tutti i venditori di cocco d'estate sono arrivati a scoprire dove abitavano i due ma sono arrivati troppo tardi i due coccobello forse sentita puzza di bruciato hanno fatto le valigie e si sono diretti verso altre spiagge ora i carabinieri della stazione di Marotta invitano eventuali vittime della truffa a recarsi da loro per denunciare l'accaduto Un'auto è finita fuori strada poco dopo le 15 di oggi in un incidente autonomo che si è verificato in via Turati a Fano dietro la Saipem di Bellocchi una Fiat Punto si è capotata per causa ancora in via d'accertamento da parte della polizia locale l'auto sulla quale viaggiava un giovane fanese neopatentato si è rovesciata su un fianco ed è finita nel fosso a lato della carreggiata l'auto ha urtato un albero e nell'impatto il giovane conducente si è procurato alcune lesioni per le quali i sanitari del 118 intervenuti sul posto lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro La città di Fano sempre più illuminata con luci a led vediamo quali sono le prossime zone le prossime aree dove arriverà questa tecnologia che farà risparmiare parecchi soldini al Comune Il progetto 1000 LED scaturisce dall'accordo tra Comune ed Aset per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica il notevole impatto sia estetico che qualitativo della riqualificazione dei punti luce lo possiamo già notare girando per le vie del centro l'operazione relamping infatti è ormai quasi terminata e per 100 mila euro tutto il centro storico è stato riconvertito ai led e prima ancora il lungomare della Sassonia per una spesa di 140 mila euro e nel 2015 anche la pista ciclopedonale di Fano da Fano a Fosso Seiora è stata illuminata a led per una spesa di 105 mila euro ma entro il 2018 la spesa totale di questo investimento arriverà a toccare la cifra di 825 mila euro dato che presto in altre zone di Fano verrà utilizzata questa tecnologia è in corso la gara per l'affidamento dei lavori per quanto riguarda via Battisti quindi il cavalcavia per intenderci via Cavallotti in cui lì verranno sostituiti proprio sia i pali che l'armatura e i corpi illuminanti è previsto per il 2017 anche la riqualificazione di tutta la zona passeggi e stiamo ultimando perché appunto sono vari interventi non li ricordo stiamo ultimando proprio in questi giorni tutta la parte di relamping della zona centro storico in cui ovviamente devo fare i complimenti anche ai colleghi perché non abbiamo cambiato diciamo l'armatura ma soltanto il corpo illuminante interno ma comunque è venuto fuori e è uscito un bel lavoro e nel 2018 concluderemo per un importo di circa 150 mila euro i lavori su via Carducci quindi la via che scende giù a Lido dal semaforo e via Cristoforo Colombo notevoli i vantaggi in termini di risparmio energetico grazie alla nuova tecnologia ci sarà un risparmio secco del 50% di energia elettrica e un abbattimento del 30% dei costi ma notevoli sono anche gli aspetti di sicurezza che questa operazione porterà entro l'estate tutti gli attraversamenti pedonali nella cittura del centro dalla stazione fino alla liscia saranno illuminati ad alto potenziale continuiamo a sostituire le lampade esistenti trasformandole a led quindi con un aumento diciamo dell'efficienza dell'illuminazione e un risparmio economico molto vantaggioso per l'amministrazione e per Aset che appunto fa questo intervento per cui sostituiremo tutti i lampioni degli anni 80 quelli a palla quindi questo è sicuramente un buon risultato aumenta l'efficienza aumenta il risparmio una città che investe e quindi migliora tantissimo Finalmente sono stati arrestati gli autori di quelle telefonate a dire vero odiose nelle quali veniva annunciato un incidente stradale ad un figlio o a un nipote più o meno la telefonata era questa suo nipote ha avuto un incidente stradale per colpa sua ed è stato arrestato paghi 5.000 euro per sistemare le cose con l'avvocato questo dicevo era il tenore della telefonata tipo con cui un gruppo di pregiudicati campani ha colpito almeno 24 volte nelle marche tra il 2015 e il 2016 accumulando un bottino di 100.000 euro in denaro e preziosi sottratto a persone per lo più anziane in un caso per esempio a Senigallia si sono fatti consegnare dalla vittima 4.000 euro in contanti e due orologi d'oro il trucco era sempre lo stesso l'interlocutore telefonava all'anziano spiegando che il figlio o il nipote era stato arrestato dopo aver causato un incidente stradale e che servivano soldi per mettere tutto a posto la banda è stata sgominata dalla squadra mobile di Ancona e dai carabinieri di Osimo nell'operazione denominata Sciacalli eseguite sei ordinanze di custodia cautelare 5 in carcere 1 ai domiciliari per truffa aggravata 4 invece le persone denunciate a piede libero Siamo stati nel parco di Bellocchi di Fano dove alcuni genitori ci hanno segnalato le precarie condizioni di questa altalena che è chiaro ovviamente è destinata ai più piccoli e che mostra insomma il supporto di uno dei suoi tiranti fortemente usurato e distaccato dalla serie insomma ecco quindi come facciamo solitamente nel nostro telegiornale diamo sempre spazio alle vostre segnalazioni e quindi questa è una di quelle una delle tante e adesso le allieve dei corsi professionali di danza classica dell'Accademia dello Spettacolo Arte Danza dopo essere state selezionate tra le 53 scuole italiane si esibiranno con i 15 migliori gruppi prescelti nella rassegna Armonia della Danza che si trà a Firenze il 25 febbraio con due coreografie di danza danza classica di Mascia Valentini complimenti a tutti e adesso invece parliamo del Carnevale perché domenica domenica 19 c'è la seconda sfilata e sarà tutta dedicata allo sport oggi a Fano c'era la pluricampionessa olimpica Valentina Vezzali come marchigiana sono orgogliosa e onorata di essere coinvolta in questa edizione del Carnevale di Fano 2017 per questo ringrazio l'ente carnevalesca che mi ha coinvolto quest'anno l'ente ha deciso di puntare sul Carnevale su quei valori che sono fondamentali per il vivere quotidiano e fra questi hanno puntato sul teatro sullo sport e sull'arte ed oggi io sono qui insieme a tanti altri rappresentanti del mio mondo a dimostrare a parlare di quei valori che lo sport può trasmettere delle prospettive future dello sport ovviamente nell'ottica del Carnevale di Fano che mi vedrà domenica fra i carri a festeggiare insieme ai miei figli allora domani è sabato domani sera ci sono i veglioni domenica c'è il processo al Carnevale la seconda puntata e allora non perdetela alle 20 e 30 in diretta prima di chiudere andiamo a vedere questo filmato questa video segnalazione che ci ha mandato il nostro telespettatore via della Marina via della Marina ore 6 e 20 più o meno va bene che il comune è in crisi finanziaria ma lasciare intere vie senza neanche un po' di luce mi sa un po' esagerato forse penserà che il risparmio è tutto qui bella cosa buongiorno ok con questa video segnalazione chiudiamo qui il nostro telegiornale vi ricordo che il nostro numero 338 49 68 250 è sempre a vostra disposizione per video segnalazioni foto e quant'altro grazie per aver seguito Occhio alla Notizia arrivederci a domani grazie a tutti